Dipinti, sculture, mobili, oggetti rari e curiosità, è stato presentato a Palazzo Rascaris il catalogo La Casa di Camillo Cavour. Storie e oggetti dal castello di Santena, realizzato dalla Fondazione Cavour con il contributo del Consiglio regionale. Si tratta dell'illustrazione di 63 opere d'arte e oggetti significativi selezionati fra gli oltre 2000 presenti all'interno del patrimonio del castello. Questo catalogo che abbiamo fatto è proprio per dimostrare quanto il castello contenga molti oggetti che riguardano i Cavour nei secoli. A partire dall'antico regime, attraverso l'epoca napoleonica, la restaurazione, fino ovviamente ad arrivare al massimo protagonista del risorgimento, Camillo Benso di Cavour. A Santena c'è il sacerdo del primo ministro d'Italia, luogo che conserva tutte le memorie, molte delle memorie politiche e personali del conte.